La casa dello studente dell'Aquila era un castello di carte, un edificio pericoloso ad altissimo rischio crollo in caso di terremoto, come poi fatalmente avvenuto la notte del 6 aprile 2009, causando la tragica morte di otto studenti. E nessuno dei professionisti avvicendati a restaurare l'edificio costruito nel 1965 ha predisposto interventi di consolidamento necessari, agito per garantire la sicurezza di chi ci viveva. Queste in sintesi le motivazioni della sezione penale della Suprema Corte, che ha confermato ieri sera a Roma, in via definitiva, le quattro condanne a quattro anni di carcere per Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Berardino Pace, tecnici del restauro alla struttura eseguito nel 2000, e a due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, tecnico dell'Azù e presidente della commissione di collaudo. I reati sono quelli di omicidio colposo, disastro e lesioni. Alla lettura della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante Rocco Blaiotta, scene di commozione soprattutto tra i familiari delle vittime presenti in aula e fra gli avvocati di parte civile. Ma la sentenza ha colto di sorpresa anche quanti erano convinti che le tesi della difesa potessero avere successo. Le difese, infatti, avevano chiesto, tra le altre cose, di dichiarare il reato estinto per prescrizione, dal momento che, secondo loro, i termini sarebbero scattati da quando sono avvenuti i lavori contestati nelle accuse, quindi dal 2000. Passaggio decisivo alla relazione del giudice Daniele Cenci, che ha citato ancora una volta ampi stralci della relazione tecnica del perito del GUP, la professoressa Gabriella Mulas. Il terremoto del 6 aprile, ribadito Cenci, non poteva da solo costituire la causa del crollo, determinato invece anche dalle gravi deficienze strutturali e da plurimi elementi di appesantimento dopo i vari interventi di ristrutturazione. Inoltre, gli edifici intorno non a caso sono rimasti in piedi. E, aggiunto Cenci, sarebbe stato sufficiente leggere anche solo la prima pagina del progetto del 1965 per capire che l'edificio, così come era progettato, non poteva garantire la sicurezza. Toccanti al termine dell'udienza le parole di Lilli Centofanti, che nel crollo ha perso il fratello Davide. Non è morto andando in guerra, non è questa l'università, è morto facendo il suo dovere e non è giusto. E, aggiunto, Anna Maria Cialente, mamma di Francesca Esposito, altra vittima, i nostri ragazzi non ci sono più, il dolore rimarrà tutta la vita, non c'è somma che ce li riporterà a casa, ma almeno hanno avuto giustizia, ha detto asciugandosi le lacrime.